dati contenuti narrati se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile il mistero dei bambini di rebiribo 00 capitolo 48 aprì la porta e non vidi nessuno abbassai lo sguardo e c'era un biglietto matteo cerca indizi non starte in un angolo a girarti i pollici rientrai in casa leggendo quel biglietto all'improvviso senti di nuovo bussare alla porta aprì la porta con cautela e vidi uno scatolone con dentro un biglietto cerca di darti risposte dove hai trovato le domande oh cristo non so un cazzo ma anche i biglietti in anonimo ricevo chiusi la porta con forza e porca puttana senti ancora bussare con tutta la mia forza apri e mi misi a guardare davanti alla porta non volevo più guardare in basso perché non volevo trovare altri biglietti ad un certo punto mi volò qualcosa in faccia perché non guardi giù iniziai a tremare ma che cazzo sta succedendo presi coraggio e guardai in per terra nulla non c'era nulla però continuai a guardare in basso sembravo un pazzo in fissa con il pavimento non so perché ma stavo contando le mattonelle del pavimento ripensai ai biglietti che avevo trovato prima è tutto strano ma non so veramente da dove iniziare poi non ho nemmeno un minimo di sostegno est vabbè lei già mi aiuta ma cazzo non può assillarmi così anziché aiutarmi mi ammazza e poi vabbè sarà inutile perché viene impossessata troppo spesso mi ripresi dallo stato di trance alzai lo sguardo per tornare in casa vorrei tanto non l'avessi mai fatto